Un ponte luminoso, moderno, dalle forme squadrate, geometriche, dove arte, design e moda inseguono un unico racconto che gira attorno al tema dell'acqua e dell'immigrazione. È The Bridge of Love, disegnato dall'architetto Claudio Nardi per Luisa via Roma. Un luogo per unire, dove le opere e le installazioni propongono molteplici linguaggi ed esplorazioni sensoriali, in cui l'acqua, l'elemento protagonista, assume diverse forme. Grazie.